Buongiorno amici, oggi faremo le costatine di pasta frolla con crema pasticcera. Adesso vi do le dosi della ricetta. Occorrono 500 g di semola rimacinata di grano duro, 250 g di buso, 250 g di zucchero a velo, 140 g di tuoli d'uovo e una bustina di pannellina. Prendiamo la panettaria e versiamo tutti gli ingredienti dentro la panettaria. Appena si forma una palla, spegniamo subito la panettaria. Prendiamo l'impasto, lo mettiamo stesso sulla carta frolla e lo ricopriamo. Lo mettiamo in frigo per un paio d'ore. Dopo aver preparato la pasta frolla e messa sul frigo, la riprendiamo. E la mettiamo sugli stampi e li boccheregliamo con una forchetta. Le mettiamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Poi vedete voi, a seconda del vostro forno. Li facciamo raffreddare e poi li ricopriamo con crema pasticcera e frutta a vostro piacere. E queste sono le costatine di pasta frolla e crema pasticcera. Le mettiamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Le mettiamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Le mettiamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. iscriviti al canale per 10-15 minuti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.